Babalabadabadab, bentornati su No Mamamazzo. Con sommo ritardo mi metto anch'io a parlare del tanto discusso crossover tra Flash e Zagor, di cui come vedete io ho acquistato la copertina con Flash e basta. Uscito appunto in copertina doppia, sia con Flash con il sfondo Zagor, oppure con Zagor in sfondo Flash, per richiamare anche al Flash dei due mondi. Quindi questo è il secondo crossover Bonelli e DC Comics, dopo il crossover tra Batman e Dylan Dogg, di cui anche in questo caso è uscito un fumetto da fiera, in questo caso da fumetteria, dato che le fiere non ci sono, in cui c'è solo la storia con il crossover e poi è uscito successivamente per le edicole lo stesso numero crossover con l'aggiunta di altre tre storie edite, quindi non inedite, già uscite, che ci raccontano la storia di Flash dei due mondi, per esempio, appunto per capire anche come hanno citato nella copertina questa storia, quindi la storia in cui Flash, Barry Allen incontra Jay Garrick, una storia di origini di Zagor tutta a colori, e infine un'altra storia ancora in cui Flash si trova a Gorilla City e deve affrontare Gorilla Grodd. Allora, ho un po' di polemica, non voglio fare un video polemica, però ragazzi, questo numero molto probabilmente doveva essere, l'idea era che dovesse uscire alle fiere, a Luca Comics molto probabilmente, però appunto Luca Comics non c'è stato per ovvie ragioni, e quindi hanno fatto in modo che uscisse in esclusiva in fumetteria. Peccato che non tutti hanno una fumetteria sotto casa, fumetteria e non edicola. Le fumetterie spesso sono nei capoluoghi di provincia e, come tutti sapete, ci sono queste fantastiche zone colorate, appunto la zona gialla, la zona rossa, eccetera, già in la zona arancione non si può raggiungere il capoluogo di provincia, quindi come molte regioni sono probabilmente nella stessa situazione della mia regione, ovvero la Lombardia, siamo stati in zona arancione tantissimo tempo, probabilmente anche per questo che è stata difficile, è stata difficile la distribuzione di questo fumetto, che comunque con le sue, ve lo dico subito, con le sue all'incirca 28 pagine costa ben 3,50€. Si poteva trovare solo in fumetteria, quindi appunto raggiungendo la fumetteria di fiducia più vicina, che non sempre è vicina, appunto è difficile magari da raggiungere per chi vuole sottostare alle regole imposte dai vari decreti, oppure sul sito Bonelli. Però sul sito Bonelli si sa che per un ordine minimo inferiore, non so se adesso è inferiore a 40€, 50€, quello che è, ci sono le spese di spedizione di 8€. Correggetemi se sbaglio, perché è un po' che non ordino sul sito Bonelli, scrivetemelo qua sotto nei commenti eventualmente, iscrivetevi anche al mio canale se è la prima volta che mi conoscete, iscrivetevi anche agli altri miei social eventualmente, scrivetemi qui sotto se sbaglio. Quindi è chiaro che questo numero è stato abbastanza inaccessibile. Io per esempio sono riuscito ad andare in fumetteria nella mia città appena eravamo diventati in zona gialla, quindi sono andato in fumetteria, l'ho preso, era già finito, quindi l'ho ordinato e poi quando è arrivato sono dovuto andare una seconda volta appunto nel capoluogo di provincia a prendere questo benedetto fumetto che appunto costa 3,50€, 28 pagine, 7€ se volete comprare una variant cover con la stessa medesima storia. Una, diciamo, follia che si potrebbe fare a Lucca Comics ma è difficile che venga spontaneo fare in una fumetteria a salvo che non siate proprio dei collezionisti sfegatati di quelli che comprano i fumetti, li mettono nella libreria senza nemmeno leggerli. E fino a qua, per carità, nulla di male. È successo anche con D-Landog, D-Landog ha avuto il vantaggio di Lucca Comics che purtroppo Flash non ha avuto e poi successivamente, se non sbaglio non so se un mese dopo o anche diversi mesi dopo, è uscita la storia D-Landog Batman con tre storie edite in cui si raccontano appunto le origini di entrambi gli eroi. È successa la stessa cosa anche con Flash e Zagor, peccato che questo numero è uscito all'incirca una settimana dopo che io ho preso questo numero. Quindi una settimana dopo all'incirca che siamo tornati in zona gialla. Devo dire che a livello di, come si dice, comunicazione, la Bonelli non è stata proprio trasparentissima. Sicuramente non ha badato assolutamente ai decreti, chi si occupa di distribuzione e di marketing non ha, chiaramente, probabilmente devono fare le cose con molto anticipo e non possono stare dietro ai decreti, ovviamente, però sfiga vuole che quando questo è uscito in edicola, questo era accessibile alle persone in fumetteria, alla maggioranza delle persone in fumetteria da pochissimi giorni. Quindi io che mi sono sbattuto a comprare questo e mi sono ritrovato con solo la maggiorazione di un euro e quaranta, ben tre storie in più, mi sono sentito un pochino preso per il culo. Però appunto adesso ho parlato solo di questa piccola polemica sterile, tra l'altro all'indomani del fatto che Bonelli potrebbe appunto pure aumentare i prezzi delle sue serie regolari, quindi si passa da 3,90 a 4,40, 50 centesimi in più, tanto per aumentare la polemica. Però non ho parlato della storia, adesso mi concentro un attimo sulla storia. Dunque, dovete sapere che io ho preso questa storia perché sono un fan di Flash. Io onestamente Zagor non l'ho mai letto per due ragioni. Uno perché mi sento fuori target, nel senso che comunque Zagor c'è da una vita, non da quando c'è Tex, però più o meno c'è dagli anni 60. E io, francamente, da piccolino non amavo le storie in bianco e nero, men che meno non mi sono mai piaciuti i fumetti ad ambientazione western, ad ambientazione nel passato. Mi sono sempre piaciute le storie ambientate nel presente, ed è per quello che io della Bonelli ho sempre letto Dylan Dogg. Per quanto riguarda invece Flash, appunto, sono comunque un amante di Flash, perché fin da piccolino sono stato rapito dalla serie Flash del 1990, è uscito appunto un anno dopo il primo Batman di Tim Burton, e da lì poi ho voluto sempre approfondire di più il personaggio, l'ho sempre apprezzato, quindi sono uno di quei lettori che probabilmente la Bonelli vuole conquistare. Perché penso che l'obiettivo di questa collaborazione sia far buttare l'occhio ai lettori di comics di supereroi come me al mondo Bonelli. Molti hanno detto che il crossover Flash e Zagor è più riuscito di Batman, Dylan Dogg. Allora, onestamente io non, conoscendo Zagor, non posso essere in disaccordo non avendo una conoscenza del personaggio di Zagor, però quantomeno sono in disaccordo dal punto di vista che Batman e Dylan Dogg, secondo me, hanno più senso di esistere nella stessa realtà, anche se appunto già quel fumetto mi ha fatto un po' storcere il naso perché si pensava come potessero comunicare in continuity Batman e Dylan Dogg, come hanno fatto per esempio con Tartarughe Ninja, dove c'è stato un portale che ha portato le tartarughe a Gotham City. Invece no, semplicemente boom, buttati lì nella stessa realtà, quindi il crossover Batman-Dylan è avvolto in una bolla fuori dalla continuity di entrambi gli eroi, dove entrambi gli eroi esistono insieme nella stessa terra. Quindi vabbè, buttato un po' lì così. Mentre con Flash è sicuramente più azzeccato il fatto che appunto Flash, viaggiando nel tempo e nelle dimensioni e nelle terre alternative, può raggiungere anche la realtà di Zagor, quindi sia lontana eventualmente in una... oggi ho problemi con le inquadrature, sia lontana dal punto di vista del tempo, quindi nel passato, sia anche eventualmente potrebbe essere benissimo una terra alternativa, come la sua terra, non lo sappiamo, non ci interessa, però ha già più senso di esistere da questo punto di vista. Però è pur vero che comunque sia Batman che Dylan Dogg hanno un'ambientazione urbana e quindi viene naturale che collaborino. Entrambi sono dei detective, uno è il più grande detective del mondo, l'altro segue il suo quinto senso e mezzo, quindi una botta di culo ogni tanto, però ha più senso per me che collaborino. Non mi è piaciuto tanto il fatto che nel numero zero non vediamo né Dylan né Batman, vediamo semplicemente le loro nemesi, vediamo... è un crossover tra il Joker e Xabaraz in realtà. Vedremo cosa ci sarà nei prossimi numeri, perché dovrebbero uscire sei numeri di Dylan e Batman, che tra l'altro non sono ancora usciti, io penso a sto punto che aspettino la fine della pandemia. Però, dato che ormai si è rivelata non essere una cosa tanto provvisoria, non so cosa stiano aspettando a far uscire questo evento, o forse sono semplicemente molto indietro e l'hanno fatto uscire a Lucca l'anno scorso, o meglio due anni fa, con troppo anticipo. Non so, penso che anche Flash e Zagor, oltre a questo numero zero e a questo numero zero più tre storie edite, ci sia anche un continuo della storia, perché se no non avrebbe senso chiamarlo numero zero, e poi perché abbiamo visto davvero poco, abbiamo visto solo un bambino che è sfasato nelle dimensioni e che riesce a comunicare sia con Zagor sia con Flash, quindi sicuramente la storia si svilupperà. Però dal momento che non abbiamo ancora visto lo svilupparsi della storia tra Batman e Dylan Dogg, chissà quando uscirà la storia tra Flash e Zagor. Molto probabilmente, se tutto va bene, Batman uscirà quest'anno e Flash e Zagor uscirà l'anno prossimo, se vogliono mantenere i tempi di uscita. Non lo so. Io spero di vedere molto di più, perché questo numero davvero l'ho solo annusato, quindi non si è capito molto di quello che succederà. Gli stessi eroi non si sono visti, ma come appunto è successo anche in Batman Dylan, dove gli stessi eroi non hanno direttamente collaborato, stanno solo arrivando entrambi alla trama principale. e questa cosa del numero zero appunto può avere senso perché ti fa venire voglia, venire hype di approfondire questa storia, però l'hype dopo un po' si smorza, se si aspetta troppo tempo. Quindi io l'hype per Dylan Dogg Batman l'ho già perso, spero di non perdere anche l'hype per questa storia. Devo dire che di tutto ciò, di tutto questo parlare, mi è piaciuto molto di più questo numero da Edicola, perché francamente mi è piaciuto di più finalmente avere una copia del Flash dei Due Mondi, sono stato davvero felice di leggerlo, mi è piaciuta anche, un po' meno, ma mi è piaciuta anche la storia di Flash a Gorilla City. Devo dire che comunque il crossover di per sé mi è piaciuto specialmente nel disegno, perché è davvero fresco, è davvero nuovo. I disegni sono di Davide Gianfelice. È un lavoro fatto davvero bene. Soprattutto questa splash page di Flash che ci fa entrare totalmente nello stile dei comics americani sui supereroi. È davvero bello. Anche Zagor, che comunque appunto ha una griglia diversa, viene ringiovanito da questa collaborazione. ecco, una splash page con tutti i nemici di Zagor. Effettivamente un numero così ti fa venire voglia di approfondire Zagor, approfondire la sua storia, approfondire i suoi villain, perché la Rogue Gallery qua sembra anche interessante. spero vivamente che se io, io lettore, mi faccio incuriosire, io lettore di comics, mi faccio incuriosire da questo numero a leggere Zagor, spero poi di trovare questo livello di qualità, seppur in bianco e nero, anche nella serie regolare. Magari comprerò uno Zagor e vediamo, facciamo questo esperimento, vediamo insieme cosa, che sensazione mi darà. Devo dire invece che la storia di Zagor, quella edita, che fortunatamente era tutta a colori, è chiaramente molto vecchia, devo dire che l'ho letta con molta fatica, spiegato anche il fatto per cui faccio il video solo adesso. Questa storia è del 69, c'è tanta 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 roba parlata, le inquadrature sono classicissime, e onestamente anche il fatto che Zagor si mostri alla folla, diciamo, al popolo indiano con dei trucchetti un po' da prestigiatore, mi ha smorzato ancora di più la voglia di di conoscere questo personaggio. Però vabbè, ovviamente andrò oltre questo mio attrito iniziale per approfondire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere se voi avete letto entrambi i crossover, Flash e Zagor, Dylan e Batman, fatemi sapere quello che preferite, fatemi sapere quello per cui avete più curiosità, per cui escano questi numeri. Scrivetemi qui sotto se sapete qualcosa in più sull'uscita, perché non si è saputo più nulla. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.